La sanità come propaganda politica Forza Italia presenta carte alla mano la documentazione relativa all'annunciato ospedale metropolitano che dovrebbe sorgere in una linea di confine tra Chieti e Pescara. E' l'onorevole Fabrizio Di Stefano a sottolineare riga per riga le varie missive tra Ministero e l'assessore alla sanità Silvio Paolucci per concludere che nulla avrebbe valore effettivo. Ciò che abbiamo già anticipato come consigli regionali dicendo che per noi quella è una deliberazione, cioè quindi carta a straccia, dove non c'è addirittura neanche il pari del bilancio. L'onorevole Di Stefano si è premurato di fare una interrogazione e dalla interrogazione sono emerse ancora cose più ridicole, una bruttissima figura fatta da questo governo regionale all'interno del Parlamento, una bruttissima figura che hanno fatto perché i ministeri hanno totalmente smendito ciò che è stato riportato, a cominciare dal fatto che non può essere la Giunta a deliberare in questo momento perché la regione Abruzzo è ancora una regione commissariata per cui quelle decisioni le deve prendere il commissario e il subcommissario previa, previo accordo con il Ministero. Addirittura il Ministero non sapeva assolutamente nulla. Spiega Mauro Febo, si tratta di una semplice operazione di propaganda che arriva al ridosso delle elezioni di chiede. Credo che gli ospedali ci servano in altri territori così come era stato programmato precedentemente, quindi a Lanciano, Vasto, Avezzano, Sulmona e Giulianova e un presidio su Penne. Questo è solo un modo scorretto di entrare a gambattese in una competizione elettorale a cui lui non c'entra assolutamente nulla.